La statura di Mattarella non si discute, la sua conferma al Colle è una garanzia per tutti gli italiani. Allo stesso tempo, è la fotografia della mediocrità della politica italiana e dei suoi leader, che si trascinano di emergenza in emergenza. Il modo in cui si aggiunge alla rielezione di Sergio Mattarella alla Presidenza della Repubblica è la dimostrazione più chiara di ciò che da tempo proviamo a non ammettere, il livello attuale della classe politica italiana è imbarazzante. Non c'è molto altro da aggiungere, la gestione del Quirinale è la sconfitta dei partiti, la resa di leader incapaci di controllare i propri eletti e soprattutto di disegnare percorsi logici e coerenti che potessero portare a eleggere nomi autorevoli e condivisi. La nomina di Mattarella non è determinata da conflitti istituzionali o da contingenze particolari, ma unicamente dall'incapacità dei leader politici di trovare un accordo di senso. Un'emergenza politica, che i singoli parlamentari, anche di seconda e terza fascia, si sono incaricati di colmare, appigliandosi all'unico riferimento autorevole che ci era rimasto, nel vuoto cosmico di figure in grado di convincere e unire, il Presidente Mattarella. E tocca fin anche ringraziare loro, per aver offerto ai propri leader l'unico modo per uscire dalla crisi. La statura dell'attuale e futuro inquilino del Colle non si discute, ma non per questo bisogna tacere delle enormi problematiche della sua rielezione. Che è e resta soluzione di corto respiro, di natura emergenziale, che va nella direzione opposta rispetto alla normalizzazione e al ripristino delle prassi democratiche e istituzionali. Lo aveva spiegato più volte lo stesso Mattarella, la rielezione è una forzatura dei dettami costituzionali, perché la forma repubblicana implica la durata temporanea, delle cariche politiche e sette anni sono sempre stati considerati sufficienti e ragionevoli. Il punto centrale è che consentire al Presidente della Repubblica di sviluppare una sua politica indipendente per così tanto tempo andrebbe a incidere sul bilanciamento fra i poteri cardine del nostro sistema democratico. Normalità, continuità istituzionale, prassi democratica e rispetto dei ruoli e delle funzioni, concetti che abbiamo sacrificato per colpa dei limiti della classe politica e probabilmente anche dell'assottigliarsi di quella pattuglia di riserve della Repubblica, da cui in passato si è attinto a piene mani. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.